Ci sono tanti motivi perché vedere questo film. Il primo è perché si tratta di un thriller psicologico. In Italia non siamo abituati a un genere che non è mai stato affrontato, perché solitamente nella produzione di un film si spera sempre o si pone sempre alla strada più semplice. Si cerca sempre la strada più semplice, quindi la commedia o il drammatico. Questo non è un film che fa piangere o fa ridere, non in maniera elettiva, ma è un film che fa riflettere, fa fare tante domande allo spettatore perché è un film che parla della vita. E alla fine gli spettatori si faranno molte domande anche esistenziali e insieme inizieranno a capire molte cose che questo film voleva trasmettere.